Il significato anche molto trasgressivo e rivoluzionario della cura, che è un termine su cui io stessa e tantissime donne, tantissimi movimenti di pensiero femministi, tantissime teoriche femministe hanno lavorato a lungo nel corso degli anni, dei decenni, è straordinariamente importante e viene utilissimo in questo momento e in questa fase, proprio perché ci richiama all'idea, ci rimanda all'idea che le donne hanno sempre evocato del fatto che è un mondo costruito su modelli maschili, governato da logiche gerarchiche di potere, estrattiviste, capitalistiche, patriarcali, non teneva in nessun conto proprio il tema dell'interconnessione e della vulnerabilità e della dipendenza che tutti gli esseri umani hanno. Possiamo dire peraltro che la cura è diventata poi una dimensione un po' destinica che è rimasta un po' appiccicata le donne, di conseguenza la cura è stata anche un campo di battaglia per le donne, per liberarsi evidentemente anche da quelli che erano degli eccessi nel momento in cui essa veniva declinata culturalmente e storicamente, come posso dire, come una missione, quindi abbinata ad un ambito per forza sentimentale, per forza oblativo, per forza di darsi, così senza evidentemente che essa potesse rappresentare invece quell'elemento politico che oggi vediamo può rappresentare per tutte e tutti. Oggi evidentemente questo tema molto forte della fragilità dell'umano è venuto allo scoperto e quindi l'idea di una società della cura, di una possibilità che collettivamente si recuperi una modalità dello stare insieme, dell'auto-organizzare, del pensare, del fare con cura, del pensare con cura e a partire dal pensare con cura anche fare con cura. Progetti, abbiamo visto un sacco di meccanismi anche mutualisti che si sono mossi e si muovevano a partire da questo genere di criterio, è ciò che dobbiamo fare. Da qui in qualche maniera noi recuperiamo anche l'idea di un'autodeterminazione del vivente che è al momento appunto catturato dentro le maglie di uno sfruttamento e di meccanismi selettivi che sono diventati evidenti dentro la sindemia, dentro la pandemia. Quindi l'autodeterminazione del vivente che vuol dire anche adottarsi di strumenti adeguati alla sfida. Io penso che per esempio da questo punto di vista, e noi parleremo, il tema del reddito di autodeterminazione sia fondamentale, lo strumento del reddito di autodeterminazione, portato avanti dai movimenti femministi, non una di meno nel suo piano, ne ha lungamente parlato, sia un perno centrale diciamo delle battaglie che ci aspettano nei prossimi anni.